Il bilancio e la finanziaria Esame del bilancio e della finanziaria Riunione della Commissione Cultura Nella settimana si sono svolte le riunioni della prima commissione sull'esame del bilancio e della legge finanziaria La Commissione Cultura si è occupata dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi A maggioranza la Commissione Bilancio ha approvato il testo della proposta di legge finanziaria e ha nominato Franco Maria Botta e Leonora Artesio e Vilma Ronzani Il testo è limitato alle disposizioni che appaiono indifferibili e urgenti Nei prossimi giorni proseguono i lavori della commissione per completare l'esame dei provvedimenti legati al bilancio Il liceo scientifico e indirizzo sportivo è la novità prevista dal piano dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2014-2015 A maggioranza, assenuti Partito Democratico e Federazione della Sinistra la Commissione Cultura ha espresso parere favorevole alla delibera della Giunta che ora, dopo l'approvazione definitiva dell'esecutivo verrà trasmessa all'ufficio scolastico regionale La trattazione dell'argomento è stata ritenuta urgente in quanto sono imminenti le iscrizioni ai vari istituti scolastici Abbiamo approvato, recependo le indicazioni delle province il piano per l'offerta formativa per il prossimo anno scolastico disegnando di fatto l'assetto del sistema scolastico piemontese e con una grossa novità importante otto licei sportivi nel Piemonte uno per ogni provincia è un'offerta formativa che si amplia che dà ai nostri ragazzi una possibilità in più e speriamo che siano iniziative che hanno successo Il piano dell'offerta formativa è stato approvato perché era una di quelle incombenze urgenti altrimenti le scuole non sanno come orientarsi per gli organici e per le iscrizioni Come gruppo della minoranza ci siamo astenuti perché non eravamo d'accordo su alcune soluzioni che riguardavano la provincia del Barbanio Cusiossola siamo però contenti che siano state introdotte novità significative come la creazione del liceo sportivo e come l'assegnazione a un liceo storico importante come il Cavour del liceo coreutico